Servono 8 milioni di euro per risolvere, almeno in parte, il problema dell'erosione del litorale di Capodorlando e l'amministrazione si è messa alla ricerca della somma per difendere l'abitato e il lungomare che ogni anno viene raggiunto e danneggiato dall'acqua. Fino ad oggi numerosi interventi realizzati dalla provincia e dal comune hanno tamponato il fenomeno dell'erosione che però spesso finisce solo per spostarsi di qualche centinaio di metri. Così, dopo la fortificazione dei muri del lungomare Andrea Doria, tutti adeguati col sistema a palancole adesso si punta a dare sbocchi al progetto che prevede una serie di interventi che vanno anche nell'ottica della prevenzione. Nei giorni scorsi si è svolta una conferenza dei servizi proprio per snellire l'iter progettuale che venne presentato al Ministero delle Infrastrutture negli anni passati. L'ultima stesura però prevede l'adeguamento alle prescrizioni suggerite dall'assessorato regionale territorio e ambiente e punta a ridurre i costi in modo da consentire all'amministrazione, eventualmente, di intervenire in caso di arrivo di finanziamenti. L'elaborato prevede la rinaturalizzazione del torrente Zappulla fino al litorale di Tavola Grande con l'eliminazione delle briglie in cemento che vennero realizzate negli anni Ottanta bloccando l'apporto naturale di sabbia verso la spiaggia. E se non arriveranno risposte da Stato e Regione, il Comune di Capodorlando punta a garantire la copertura finanziaria col proprio bilancio tramite la vendita della Casa Albergo degli Anziani inserita nel piano comunale delle alienazioni. La struttura è stata valutata 8 milioni di euro. La somma però basterebbe solo per realizzare alcuni stralci del progetto, cioè quelli su una parte del lungomare e lungo il torrente Zappulla. Grazie.